A Venezia per il Festival del Cinema, conferenze stampa, dibattiti, proiezioni e tantissimo altro raccontati in un emozionante report che riguarderà in particolare il cinema. Un saluto all'Italia che la sta ammirando in tutta la sua bellezza? Beh, un saluto anche a casa mia, alle persone che amo, con le quali vivo in questo posto che mi ha visto diventare, ho detto in un'intervista, madre e madrina, quindi che sogno! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Termina qui questa fantastica esperienza alla mostra del Cinema di Venezia, 79esima edizione. Un po' stanchi ma molto molto soddisfatti per il lavoro che portiamo a casa, ad Agropoli, nella nostra favolosa redazione. È stato davvero entusiasmante essere qui e speriamo che il prossimo anno, di nuovo qui, per raccontarvi quello che è il cinema, quella che è la vita che si svolge durante la mostra del Cinema di Venezia. Grazie a tutti!